Buongiorno a tutti quanti ragazzi e finalmente benvenuti in questo nuovo video Allora oggi finalmente per tutte le ragazze che guarderanno questo video è arrivato il momento di vedermi nudo Spero per voi che siate contenti signorine No a parte scherzi ragazzi come vi sarete spoglierati tutti quanti dal titolo Oggi andiamo a fare un bel check fisico Ora ragazzi andremo a vedere il punto di partenza dopo oramai un po' di tempo che sono ritornato regolarmente ad allenarmi in palestra Cosa posso dirvi ragazzi? Se siete nuovi sul canale mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi Trovate il tasto rosso qua da qualche parte con scritto iscriviti Fate clic Lasciate un bel like a questo video per supportarmi E sotto in descrizione trovate tutti i miei link ai vari social Ci tenevo a ringraziarvi perché abbiamo finalmente dato sold out una delle due versioni delle mie mascherine Questa è andata sold out mentre di queste ne rimangono ancora veramente poche ma a breve finiranno anche quelle Quindi grazie mille per il supporto www.legendier.it Presto usciranno tante nuove cose Andiamo a pesarci Tac la bilancia ce l'abbiamo vediamo se ancora mi ricordo come ci si pesa Eh ok 79,5 79,5 peso relativamente molto buono Anche perché post quarantena post lockdown mi sono sempre aggirato intorno agli 80 kg Prima e dopo aver incominciato palestra Cosa significa? Significa che avrò messo sicuramente un po' più di massa grassa e avrò perso un po' più di massa magra Cercando durante il periodo di lockdown di seguire un'alimentazione abbastanza corretta Sono riuscito a compensare un po' che è stato l'accumulo di grasso e la perdita di muscolo Ci sta che il peso inizi un po' a diminuire semplicemente perché sto bruciando molto più velocemente l'adipe che costruendo muscolo Quello chiaro ci vuole un po' più di tempo Per tutte le persone che si stessero chiedendo del perché io abbia il cappellino in casa ragazzi La solita domanda più stupida dell'universo è perché ho dei capelli veramente combinati male Devo andarmene a tagliare? Lo so Pagatemi il parrocchiere Link di paypal in descrizione Dato che ancora non ho fatto colazioni direi che è arrivato il momento di fare un bel check fisico E lo andremo a paragonare a un check fisico post palestra Ne farò un paio Vediamo anche un attimino le differenze Ci sta Ciao dove ho perso di più sicuramente volume sulle gambe ho perso tanto volume sulle gambe braccia spalle sono rimaste più o meno simili tanto spessore sul petto ho fatto veramente tantissima fatica ragazze ad allenare la parte superiore e mi si è leggermente appiattita devo dire back è rimasto molto molto spesso forse è diminuito leggermente il volume in ampiezza appunto sempre uno dei miei punti carenti diciamo che sono andato a peggiorare veramente tanto sui punti su cui avevo lavorato tantissimo mentre su il resto dove geneticamente magari sono anche più portato è rimasto molto molto più qualitativo la colazione perché sto morendo di fame magari al prossimo video vi porterò anche un bel full day of eating colazione molto particolare in questo periodo sto seguendo tanto la flessibile per aiutare ad aumentare piano piano il livello calorico e il livello calorico mi aiuterà in questo caso a spingere un po' di più in palestra ho notato veramente che anche il livello di fame in questi giorni mi è sceso un pochino non ero più abituato a mangiare tante volte spesso e determinati quantitativi di cibo mi è scesa un po' quella che è la fame e le prestazioni in palestra sono calate in questo modo con la flessibile riuscirò a gestirmi un volume più alto di calorie con alimenti invece con un volume un po' più ridotto più mangiamo pulito più chiaramente il volume del cibo aumenta alla salute allora prima di andare in palestra ragazzi oggi dovrò incontrare il mio socio perché dobbiamo parlare di un paio di cose riguardo al grande progetto che in parte vi ho già spoilerato le cose da fare sono tantissime i soldi da spendere pure quindi stiamo veramente facendo tutto con molta cautela allenamento di oggi in realtà ancora non so cosa combinare magari allenerò un po' il dorso che è da un bel po' di tempo che non lo alleno speriamo di trovare qualcuno in palestra che mi dia una mano a fare le riprese e insomma andiamo a vedere un attimino gli ultimi aggiornamenti con Luca e la cochina zero non può mai mancare e il man diceva che abbiamo appena speso un k al mese per queste cocchine che ci hanno sempre qua a prendere le cocchine zero sostanzialmente sì mille euro al mese di cochi vale zero dovete sapere che il man è mister chicken breast perché non tiri fuori qualche ricetta non ti fai un bel canale tiktok bro ma arriverà anche su youtube qualche video ragazzi lui ha veramente tantissime ricette da fare con il pollo perché non sfruttare le sue conoscenze mi piace mi piace mi piace abbiamo visto questo video dove c'è questo che rincorre una tipa correndo in questo modo strano ho dovuto riprovare appunto la corsa in questione ma più o meno mi raccomando seguitemi su instagram lorenzo lari trattino basso ci tengo stavamo facendo giusto un mini brief su quello che sarà l'avvio di questa attività sei pronto? 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 stavamo pensando un attimino a quello che erano poi possibilità di creare dei pacchetti riguarderà ci sarà una rivoluzione totale per quanto riguarda il coaching online assolutamente sì qualitativo più regole un attimino più controllato sotto molti punti di vista sarà una rivoluzione in tutti i sensi ora stiamo giusto un attimo aspettando che determinate persone ci aggiornino ora sono tutti in vacanza le banche non rispondono i commercialisti nemmeno ragazzi preparatevi anche a dei servizi multimediali che vi proporremo tramite ovviamente il sito dello studio eccetera stiamo costruendo elaborando cioè i cervelli stanno andando in papa però non ce la faremo mica sul pezzo seguite sempre i vostri sogni raga finalmente in palestra allora oggi andrò a fare un po' di dorso quindi iniziamo con il classico dei classici esercizi un po' di let machine in questo periodo non sto seguendo nessun programma mi sto stilando mano a mano giorno per giorno che vengo in palestra il mio programma quindi no problem bom let machine è andata ora cavolo un po' di mezzi stacchi che ne ho la possibilità e tra l'altro è un esercizio che non faccio veramente da un po' di tempo quindi vediamo un attimino anche a livello di carico cosa abbiamo mezzo stacco partendo dai pin più o meno guardate mi arriva ad altezza ginocchio iniziamo con due venti un esercizio in cui salirò parecchio con la cintura ovviamente ok allora ragazzi ora passiamo a fare del t-bar roll ho beccato tra l'altro un compare qua con me allora iniziamo con un po' di riscaldamento 10-12 reps salire 70-80 kg di pesa e continuiamo 5-6 reps let's go finito il t-bar passiamo a un pulle largo 3 set per 12-15 reps bello check fisico post vale vediamo un attimino anche le differenze rispetto al check che avete visto stamattina in casa gambe chiaramente non le abbiamo allenate bravo che bello grazie a fra poco raga a fra poco raga e sono passati 4 giorni da quando vi ho portato la clip in palestra comunque niente lasciato al caso completamente dimenticato per la chiusura di questo video come avete visto check fisico fatto ve l'ho portato di mattina no pump eccetera poi ve l'ho portato in palestra super pump nulla da dire sono molto contento il fisico si è ripreso ha recuperato tanto volume cosa posso dirvi ho ancora tantissimo lavoro da fare ora si torna in palestra raga percorso over the top sto riprendendo la frequenza ottimale aspettatevi tanti bei video sono tornato un po' sul pezzo tantissimo lavoro da fare in questo periodo i ragazzi del team li sto portando avanti e io sono molto contento che tutti i ragazzi stanno lavorando veramente al top state impegnando tanto ma così deve essere detto questo ragazzi io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo momento mi raccomando ricordatevi sempre di lasciare un bel like iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto commentate sotto e noi come al solito ci vediamo al prossimo check fisico ciao